Buonasera a te Piero, sono circa 2.500 i biglietti venduti per il settore ospiti dello Stadio Maradona in occasione di Italia-Inghilterra. All'esito di questa prima riunione del Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica è stato disposto un meeting point, un punto di raccolta. Verrà consigliato ai tifosi inglesi di recarsi a questo punto di raccolta nel pomeriggio di giovedì alla stazione marittima. Da qui saranno messi a disposizione una ventina di pullman per il trasferimento allo Stadio Maradona. Prefetto Palomba, c'è grande preoccupazione, abbiamo ancora negli occhi le immagini degli scontri della settimana scorsa, però da quello che è emerso nella riunione anche dalle vostre parole si ipotizza uno scenario totalmente diverso. Sì, decisamente diverso. La nazionale è amata da tutti, in particolare a Napoli. Si ritorna a Napoli dopo dieci anni, quindi abbiamo voluto fare questo primo incontro. Domani ci sarà un tavolo tecnico in questura anche con la polizia inglese per avere un po' i dettagli degli arrivi che sono previsti in maniera diversificata, alcuni con charter, altri con altri mezzi. Ma l'importante è che è stato costituito appunto questo punto di incontro alla stazione marittima, da cui poi partiranno per lo stadio. Ci siamo svegliati stamattina con la notizia di un altro omicidio nella zona di Mergellina. Dal sindaco è arrivata pubblicamente la richiesta a lei di perorare la causa per un rafforzamento delle forze dell'ordine, degli organici di forze dell'ordine a Napoli. Ho parlato poco fa con il sindaco, innanzitutto la questione sotto l'esame delle attività investigative, ma faremo un comitato strettissimo a pochi giorni. Ho già detto anche perché nel forum delle città metropolitane il ministro dell'interno ha dato attenzione proprio al rafforzamento anche sia della polizia municipale e prossimamente anche delle forze dell'ordine. Dalla prefettura di Napoli è tutto. Piero ti restituisco la linea.